Domani a Sciacca, primo appuntamento con la Bike. Organizzata dal Comitato Provinciale Asi di Agrigento con la collaborazione delle associazioni sportive Xacca Team Bike di Gasper Isabella e Trischele Bike di Salvatore Mugnai, si terrà domani, a partire dalle ore 16, la prima edizione della Sciacca Asi Mountain Bike X, gara di mountain bike valida come seconda prova del campionato regionale Asi giovanissimi. Alla manifestazione, che si svolgerà presso l'area boschiva Sciacca Mare, incontrata Sovareto a Sciacca, parteciperanno giovani biker provenienti da tutta la Sicilia. Una competizione ufficiale dunque, utile anche ad avvicinare i più giovani a questo splendido sport. E passiamo alle arti marziali. Domani, presso il palazzetto dello sport Piola Torre di Palermo, si svolgerà la fase regionale valida come qualificazione ai campionati italiani cadetti di Kumite Figilcam. La Ippon Caratelentini di Sciacca andrà in pedana con i seguenti atleti, nati nel 2003 e 2004. Il seccense Giacomo Vinci e i riberesi Giuseppe Gulino, Simona Di Gaetano, Angelo Ciancimino, Giade Esposito, Giacomo Cardinale e Lucia Sala. Gli atleti saranno accompagnati dai tecnici Figilcam Piero e Marco Lentini. Obiettivo qualificare qualche atleta al torneo nazionale, cosa che riesce spesso al sodalizio di Lentini. E chiudiamo con il podismo. Domani a Marsala appuntamento con la quinta maratonina del vino, terza prova del 17esimo Grand Prix Sicilia di mezzo maratone 2018. A Marsala confluiranno atleti siciliani e altre regioni d'Italia, ma sono attesi anche corridori provenienti da Stati Uniti, Germania e Lussemburgo. Gli atleti di Sciacca che prenderanno parte a questa terza prova sono in 28, di cui 5 iscritti per la Marathon Club Sciacca, 10 iscritti per la Polisportiva Gato Clesciacca e 12 iscritti per la Tartaruga, oltre ad Alberto Indedicato dell'Atlon Ribera. La gara è organizzata dalla Polisportiva Marsala Doc. Vedrà l'arco di partenza e arrivo in Piazza Momeri, davanti alla storica Porta Garibaldi. Il percorso di gara prevede tre giri di 7 chilometri circa, per un totale di poco più di 21 chilometri, e sarà un percorso tutto pianeggiante. Le ultime due edizioni della Maratonina del vino sono state vinte entrambe dal marocchino Bibi Ahmad.